Saranno effettuati i lavori per il rifacimento di 5 strade a San Cataldo grazie a dei finanziamenti in arrivo. Con decreto del Ministero dell'Interno, in data 18 luglio infatti, sono stati assegnati al Comune di San Cataldo finanziamenti per complessivi 2 milioni e mezzo di euro, spiega il Sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato. Siamo particolarmente soddisfatti per il lavoro svolto dagli uffici comunali, aggiunge, capaci di intercettare risorse importanti per il nostro territorio. Si tratta di importanti interventi che consentiranno di migliorare notevolmente la situazione viaria del nostro Comune, afferma l'assessore Salvatore Emma. Gli interventi riguarderanno il prolungamento della via Peppina Impastato fino al congiungimento con la ex strada provinciale 6, così da realizzare una circonvallazione per far defluire il traffico proveniente da Caltanissetta verso la zona industriale di San Cataldo e in direzione di Sera di Falco. Questa nuova arteria permetterà di sgravare una notevole mole di traffico veicolare che attualmente attraversa tutto il centro abitato, afferma nel Sindaco Comparato e l'assessore Emma, fornendo un agevole sbocco a tutto il traffico in entrata nel nostro centro abitato. E ancora si prevede un intervento di manutenzione straordinaria con opere di contenimento a difesa di un tratto di strada a valle di Via Aldomoro, quartiere Pizzo Carano. In tal senso, aggiungono, si realizzeranno opere di sostegno a salvaguardia di un tratto di strada già interessato da fenomeni franosi che compromettono la sicurezza stradale. E poi ancora il ripristino della strada comunale Gabbara. Tanti cittadini in questi mesi ci hanno scritto chiedendo un intervento su tale strada, praticata da molti e utilizzata anche per raggiungere il Bosco Gabbara e dal Parco Minerario, oggetto di una sempre più crescente attenzione. Il collegamento, concludono da ripristinare, prenderà in considerazione la strada comunale Gabbara e l'interpoderale di collegamento fino alla strada provinciale 33. Si prevedono anche interventi di manutenzione e rifacimento della pavimentazione della sede stradale incontrada Giganna, lavori di manutenzione straordinaria e recupero della strada comunale Matileo, di collegamento tra la strada provinciale 15 e la strada provinciale 37, con anche rifacimento della sede stradale dell'arteria di collegamento tra le due strade provinciali.